Il Tribunale di Catania ha condannato il Ministero dell'Interno a pagare le spese legali in seguito all'annullamento delle delibere del Fondo di Solidarietà per i Reati Mafiosi. La vicenda trae origine ancora una volta dalla strage di Vittoria. Alcune delle vittime secondarie della strage avevano ottenuto in sede penale la condanna degli autori al pagamento di una consistente provvisionale, ottenendo anche l'erogazione del Fondo di Solidarietà istituito presso il Ministero dell'Interno. All'esito del giudizio civile di primo grado avviato per la quantificazione del risarcimento del danno per alcuni parenti delle vittime, il giudice civile aveva invece ritenuta eccessiva la somma disposta con la provvisionale penale e aveva stabilito una condanna in misura ridotta. La sentenza era stata appellata perché ritenuta errata ed ingiusta. Nell'emore dell'appello il Fondo di Solidarietà aveva emanato delibere di revoca parziale di quanto precedentemente erogato e avviato il recupero delle somme presuntivamente versate in eccedenza. Era stato quindi presentato un ricorso al Tribunale di Catania che ha invece accolto totalmente le tesi difensive ed annullato le delibere ministeriali impugnate, nonostante la difesa dell'Avvocatura Generale dello Stato. Le motivazioni con cui il Tribunale di Catania ha condiviso la tesi dei ricorrenti risiedono nella stessa ragione della legge che regolamenta l'accesso al Fondo per le vittime di mafia, che dovrebbero essere tutelate e non ulteriormente vittimizzate dallo stesso Ministero, così come articolato dal studio legale vittoriese che ha ottenuto la condanna. L'operato del Ministero in pendenza del giudizio di appello è stato quindi ritenuto illegittimo e il Ministero è stato condannato a pagare le spese di causa.